Salve a tutti Coppa Italia, turno di Coppa Italia e Atalanta affronta la Fiorentina ma parliamo prima di quello che sta succedendo quindi l'Inter che è la prima semifinalista stasera Milan-Lazio vedremo chi affronterà con l'Inter sarà probabilmente un derby o meno lo vedremo comunque cosa succederà stasera poi sarà il nostro turno e poi ci sarà il turno del Juventus-Sassuolo e comunque la Juventus gioca in casa a vita dura per il Sassuolo comunque la palla è rotonda quindi vedremo poi se sarà possibile anche che il Sassuolo ci possa affrontare noi pensiamo comunque nel caso passassimo con la Fiorentina che dovremmo fare un doppio confronto con la Juventus ma parliamo appunto di Atalanta-Fiorentina parliamo anzitutto di Atalanta e quindi dei problemi che sinceramente abbiamo in attacco perché ci sono fatte male un po' tutti oltre al resto comunque abbiamo Miranchuk che non è disponibile già da col Cagliari Zapata che si è fatto male speriamo che non sia qualcosa di veramente grave da come è uscito dal campo dovrebbe comunque essere una cosa recuperabile speriamo veramente perché comunque da come giocava quest'anno non solo spiace per l'Atalanta ma spiace per tutto il calcio perché si vedeva veramente giocare un giocatore che ha fatto vedere veramente quello che vale certamente per i nostri colori ma se uno vuole vedere buon calcio Zapata quest'anno più degli altri anni ha fatto vedere delle bellissime giocate che fanno solo onore al di là dell'attacco che probabilmente sarà comunque presenziato da Muriel e credo come il Cagliari Pasaric di davanti quello che mi preoccupa di più per quanto riguarda l'Atalanta è la fase difensiva oppure quello che ha deciso di fare Gasperini ma è che il fatto che abbiamo sempre giocato con tre difensori di ruolo dietro va bene col Cagliari facevi un 4-3-2 ma un 4 che comunque erano due era comunque Zappacosta e Pezzella comunque non erano una vera e propria difesa quindi io tornerei comunque alla vecchia formula di come abbiamo vinto diverse partite con tre difensori classici quindi i disponibili che potremmo avere con le solite fasce dietro si chiamavano le ali che tornavano facevano lo stesso ruolo però si pensava a chiamarli più attaccanti che difensori invece col Cagliari abbiamo chiamato più difensori ma è sempre stato così loro cercano comunque di fare tutto il ruolo della fascia e dietro comunque dobbiamo avere un difensore di ruolo del centrale che se torniamo indietro negli anni 80 è l'ex libero e poi dopo gli altri difensori quindi mi piacerebbe che ritornasse così poi comunque lasciamo fare al Gaspac che è sempre un grande e quindi se cerca delle soluzioni diverse ci sarà ben un motivo per quanto riguarda la sfida con la Fiorentina in Coppa Italia pensiamo anche alla nostra avversaria e quindi alla situazione che abbiamo sia l'Atalanta che la Fiorentina quindi il fatto che tutti e due abbiamo perso una col Cagliari che è sicuramente una partita abbordabile per quanto riguarda l'Atalanta e una con la Lazio che comunque è una squadra una signora squadra e comunque persa in casa per 3-0 lascia un po' il suo segno entrambi sicuramente cercano un riscatto in Coppa Italia anche in vista poi della partita di domenica ma è importante comunque anche il torneo soprattutto per l'Atalanta e penso anche per la Fiorentina comunque per poter far sì che è una stagione portandosi avanti e facendo poi le semifinali ed eventualmente uno può cercare di vincere anche la finale per portarsi a casa comunque un trofeo al di là della formula che comunque tutti vogliono dire che non va bene perché comunque lasciatevi per trovo perché comunque le prime otto sono qualificate subito favoriscono un po' le più forti è quello che sta facendo un po' sulla Superlega che io devo dire come da Tarantino alla fine guardo anche diversi sport americani loro sono vent'anni avanti più di noi e si è arrivati già a una Superlega già da tempo anche se mi spiace per i colori nostri che non è che vanno a morire ma diventeranno parte integrante poi delle squadre che avranno i colori italiani e quindi cosa faremo? Mi sono perso su una cosa che non so mi dite commentate qui sotto e ditemi cosa pensate di questa cosa perché comunque secondo me sarà il futuro la voglia di riscatto comunque da parte di tutte e due le squadre è sicuramente inisita in questa partita la partita che io andrò a vedere allo stadio quindi speriamo di vedere e di trionfare e di tornare per semifinalisti in qualche modo comunque sia a meno per poi giocarsi ancora la partita con la Juventus alcuni italantini dicono forse è uscire forse sarebbe meglio quindi perché poi dopo abbiamo anche l'Olympiakos in Europa League e magari uscire ci favorirebbe intanto la Coppa Italia ce l'abbiamo anche l'anno prossimo ci favorirebbe anche il fatto di poterci preparare per un eventuale richiamo richiamiamo sedicesimi di Europa League gli ottavi, i quarti, i semifinali quindi se ci danno un po' ci danno comunque credito per poter vincerla questa Europa League sicuramente avere più impegni ci può limitare o meno tra parentesi Gasperini non la pensa così più partite facciamo e meglio è così avevo sentito su una sua conferenza stampa l'importanza fine della partita con Atalanta e Fiorentina che per entrambe sia Atalanta che Fiorentina mi mischio con la faccia ma perché entrambe hanno perso come dicevo prima hanno perso in campionato e quindi per l'Atalanta la possibilità di qualificarsi al di là di quello e comunque portare a domenica una squadra che è leggermente euforica rispetto alla depressione una cosa psicologica la depressione rispetto all'euforia quindi ci potrebbe portare a contrarre Juventus in un determinato modo una Juventus che continua a vincere e però anche come tutti come Napoli pensate a Napoli di quest'anno che sembravano fermarsi poi adesso invece adesso devo rincorrere quindi questo può far sì che gli diamo una difficoltà qualcuno ha detto che domenica sarà difficile che vinciamo perché abbiamo vinto già Torino quindi due volte con l'Atalanta diventa una cosa storica vabbè vedremo al di là di quello di quello che succederà domenica dopo faremo faremo un video a parte la Fiorentina invece va a giocare con lo Spezia quindi fuori casa quindi con lo Spezia però dovrà fare risultato e per fare risultato certo uscite con una sconfitta forse minima non gli dà fastidio però certo loro lottano anche loro per le posizioni di UEFA di UEFA Conference League o quello che vuoi Europa League comunque stanno lottando anche loro insieme a Roma, Lazio speriamo non noi comunque sono lì per poter lottare per quella posizione e quindi anche per loro è importante vincere ho sentito ho letto praticamente quello che è di tetto italiano ha detto che sarà importante vincere domani per poter poi dare una forza anche ai giocatori di poter proseguire poi il campionato quindi è quello che abbiamo detto per tutti sia per l'Atalanta che per la Fiorentina bene io sono allo stadio di domani quindi mi goderò la mia Atalanta la mia grandissima Atalanta anche se fosse ultima in classifica in Serie A io sarei lì quindi perfetto ci rimaniamo per il post partito lo farò o domani sera o venerdì vediamo a seconda di quello che succede domani l'abbiamo a seconda